La casa era disabitata perché i proprietari si sono trasferiti a Roma e le fiamme silenziose hanno danneggiato seriamente l'intero appartamento. Panico questa mattina in via a palestro nei presti della piazza Dante a Canicattì per un incendio che si è sviluppato all'interno della casa al civico 54. Porte e finestre sbarrate, addirittura rafforzate da cancelli per evitare intrusioni da parte dei ladri. Ad avvertire la puzza e ad accorgersi del fumo che fuoriusciva da una finestra è stata la famiglia che vive accanto. Una anziana che preoccupata assieme al marito hanno chiamato i pompieri che sono intervenuti prontamente per spegnere il rogo. E non è stato facile per i vigili del fuoco innanzitutto entrare. Hanno dovuto scardinare con un flex il cancello posto a protezione di una porta che si affaccia su un cortile ed hanno dovuto quindi faticare tantissimo. Poi una volta dentro hanno cercato di capire da dove provenissero le fiamme e con un idrante hanno cercato di spegnere il rogo. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di capire se l'origine delle fiamme sia stato un fatto accidentale oppure se è stato un incendio appiccato da qualcuno. Quello che non convince gli inquilenti è come sia stato possibile originare il rogo all'interno di una casa dove sia il contatore dell'elettricità che quello del gas sono staccati perché i proprietari vivono nella capitale italiana. In pochi minuti i pompieri hanno estratto tutto il materiale infiammabile e hanno avuto ragione sulle fiamme dopo oltre un'ora di lavoro. Sul posto anche i vigili urbani che hanno aiutato nelle operazioni di regolamentazione del traffico che è stato deviato per consentire ai vigili del fuoco di lavorare. Del fatto è stata informata anche la procura della Repubblica dei Grigento. I carabinieri sono al lavoro per dare una spiegazione all'accaduto ma attendono prima la relazione dei pompieri del distaccamento di Canicattì che con grande professionalità e sprezzo del pericolo hanno messo in sicurezza l'abitazione evitando ulteriori e peggiori conseguenze soprattutto ai vicini dell'abitazione danneggiata dall'incendio. Grazie. 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 Grazie.